Mi sono fatto l'idea di un territorio molto vivo e sicuramente accogliente. Ovviamente sono stati giorni molto impegnativi perché devo prendere contatto col territorio quindi devo lavorare molto di più per inserirmi in dinamiche che ancora non conosco. Tuttavia per la prima impressione, come ho già detto prima, è sicuramente molto positiva. Quindi un territorio veramente bello, dinamico, anche ricco. Sicuramente avrà delle sue problematiche che cercheremo di affrontare e risolvere nel migliore dei modi. La mia carriera inizia nel 1997 con l'accesso all'Accademia Militare, quindi i corsi regolari dell'Accademia Militare. I primi due anni a Modena e poi proseguono con la scuola di applicazione a Roma. Successivamente da tenente sono stato destinato al reggimento carabinieri di Laives dove ho potuto comunque partecipare ad alcune missioni all'estero. Successivamente sono entrato nella linea territoriale quindi comandando la compagnia prima di Bono in provincia di Sassari e poi di Genova San Pierdarena. Da qui sono stato destinato al comando provinciale di Brescia dove ho retto il nucleo investigativo per 5 anni e successivamente al reparto operativo di Vimbo Valencia da cui provengo.